Ho lasciato il lavoro alla fine del giugno 1944, ho lasciato il lavoro ad Ansaldo e sono andata a fare la segretaria e la staffetta al segretario della federazione del PCI clandestino. A di Genova, che era un compagno di Ferrara, Ilio Bosi si chiamava. E finché è stata arrestata mia sorella. Per una sciocchezza proprio perché i fascisti avevano scoperto la casa di una nostra amica. E insomma noi avevamo l'ordine che se avevamo solamente il sospetto che la casa era caduta, così si dicevano, non dovevamo andarci assolutamente. Invece, combinazione, io e mia sorella eravamo insieme a questa nostra amica a San Pier d'Arena. E lei diceva, ma io ho bisogno di andare in casa, ho bisogno, devo prendermi della biancheria. Ma io ho detto, ma io ho detto, ma a noi ci hanno detto che non ci si deve andare. Se abbiamo solo il sospetto che la casa è invasa dalle brigate nere poi, tra l'altro. Ma dice, io ci devo andare. Mia sorella, che era una donna generosa, una ragazza, dice, beh ti accompagno. Io gli ho detto, io no, io me ne vado. E io me ne sono andata. Mia sorella ha accompagnato sta ragazza, sono andata in casa, le hanno prese tutte e due. Le hanno prese tutte e due, ma poi, per fortuna, il fratello di questa ragazza era riuscito a scappare, è andato nei partigiani, perché combinazione era fuori di casa. E lei, con suo padre, è rimasta lì. Mia sorella aveva due anni più di me, io ne avevo 18 e lei ne aveva 20. morta presto, poverina. E mi dicevi che tu sei entrato in contatto per la prima volta con lui, no? Con le donne, ce ne erano tante che facevano... E c'erano i gruppi di difesa della donna, in Valpolcevera. E appunto si facevano le calze di lana, andavamo a prendere la lana dei materassi, si cardava, si sfilava, e poi si facevano le calze, si facevano i maglioni da mandare in montagna. Mio padre raccoglieva le armi, quelle che tra l'altro avevano lasciato dopo l'8 settembre, i soldati avevano abbandonato, no? Tra l'altro casa nostra era frequentata dai nostri, diciamo, dagli sloveni, che allora erano sotto l'Italia, no? E mio padre, insomma, questi qui venivano a casa nostra perché si trovavano un po' a casa loro. Mia madre, loro portavano la roba da mangiare, mio padre metteva il vino, si facevano delle tavolate di 20 persone, c'erano tutti questi ragazzi che venivano. Tra l'altro erano contenti, imparivano ad essere un po' a casa loro, cantavano le canzoni slovene, insomma, stavano bene con noi. Poi c'erano tutte queste ragazze che gli facevano compagnia, insomma, ravvivavano poi l'ambiente. Magari nasceva anche qualche amore. Sì, forse sì, c'era mia sorella maggiore che aveva incontrato un ragazzo che poi sono scappati assieme il 13 di luglio, prima del 25 luglio ancora, no? Quando hanno cominciato a esserci partigiani in Jugoslavia, i nostri soldati, c'era anche un mio cugino lì a Genova, questi qui hanno disertato tutti, sono scappati tutti, sono andati tutti via e sono andati nei partigiani in Jugoslavia, in Slovenia, diciamo, no? Lì dove c'era già Tito che organizzava, che organizzava la, diciamo, contro i tedeschi, no? La rivolta. Insomma, che mia sorella, mia sorella maggiore, è partita il 13 di luglio. È partita con sto ragazzo. Tuo padre era contento? Eh? Tuo padre era contento o ci è rimasto di sorpresa? No, mio padre, mio padre, mio padre ci aveva tirato un po' su come, siccome non aveva avuto dei maschi, ci aveva tirato su un po' come dei maschi, mio padre, perché, non so, i lavori che faceva, dammi il martello, dammi questo, dammi... Ci faceva aiutare a segare la legna, che non so. Eh, insomma, c'eravamo noi e quindi noi facevamo quello che poteva fare un maschio. Io ero capace a zappare, io ero capace a fare l'orto, ero capace a seminare. Mio marito no, eh. Mio marito lui non era capace, ma io ero capace. Se c'era, sì, se c'era qualcuno che seminava, lui zappava, ma la mente mi zappava. Io seminavo. Ma senti, invece dicevi, cantavano questi canti sloveni, ma ti ricordi qualcuno? Di questi canti? Ma... Non so. La canta... OI MARICCA, aspetta un po'. OI MARICCA. Dove diceva? OI MARICCA, MARICCA vuol dire... Maria, un diminutivo di Maria, no? OI MARICCA, danza, danza... Danza... Sulaia, un affare così, no? Ma adesso non me la ricordo più. Facciamo un attimo di stop.